Arresti domiciliari a casa dei genitori, questo ha deciso il GIP dopo meno di un'ora di interrogatorio, un'ora scarsa nella quale Melissa non ha aperto bocca. Sono le 9.26 quando la 29enne esce dall'ospedale di Padova dove era ricoverata per essere portata qui in tribunale. Poco meno di un'ora in cui la 29enne si avvalsa della facoltà di non rispondere, poi la decisione arresti domiciliari a casa dei genitori in Puglia. Anche in aula la 29enne è apparsa glaciale, un accecciamento distaccato anche sull'auto di Carabinieri, distante. Lo stesso atteggiamento che ha avuto in ospedale quando è stata condotta lunedì all'alba dove i medici, senza nessun segno di pentimento, avrebbe dichiarato di non sapere di aspettare un bambino, di essere ignara di questa gravidanza. Parole che vengono smentite da chi la conosceva. Era evidente la pancia, di conseguenza adesso siamo in cerca di scuse forse. Come si fa una donna, non sa che si è incinta. Fred è impassibile, è apparsa anche davanti ai soccorritori che sono arrivati alle 4 e mezza, qui in questo appartamento sopra il locale dove la ragazza viveva da alcuni mesi. Niente lacrime, Melissa era lucida e lontana dalla commozione. Esce di casa con la borsa, come se nulla fosse successo. Con lo stesso atteggiamento è arrivata qui in tribunale a Padova. Chi la conosce la descrive come una ragazza taciturna, molto sola. Sempre seduta, sempre là, seduta da sola e basta. Non parlava con nessuno e salutava i clienti che entravano e basta. Questa mattina, a distanza di quasi tre giorni da quella notte, avrebbe potuto raccontare la sua verità. Invece si è chiusa nel silenzio. Un silenzio assordante, una tragedia che poteva essere evitata. La 29enne non viveva da sola. C'erano tre o quattro persone, penso, non lo so, di solito c'erano altre persone, mi sembra strano che sia successo. Perché nessuno l'ha aiutata? In attesa degli esiti di autopsia sul corpo della neonata, iniziata ieri sera, restano ancora tanti gli interrogativi.